La Fiera di Bologna oggi apre le porte per l'ottava edizione del Research to Business, una manifestazione dedicata interamente alla ricerca industriale. L'evento è promosso dalla Regione Emilia-Romagna a Bologna Fiera in collaborazione con Aster e SMAO ed è anche l'occasione per favorire l'incontro e lo scambio di idee tra domanda ed offerta di tecnologia ed innovazione. Crescita, innovazione, ricerca, competitività. E questo è il quadro che noi stiamo sviluppando, oggi tra l'altro è la giornata mondiale dell'ambiente e quindi la vera sfida profonda è con l'intelligenza e il sapere trovare le condizioni perché le nostre tecnologie possono assicurare un mondo migliore, oggi misurare le intelligenze che troviamo dentro il Research to Business e trovare le condizioni perché di qui si possa caricare la batteria di un sistema che vuole sfidare il futuro e stare nel futuro. Finalmente siamo riusciti a organizzare un circuito nazionale in cui R2B di Bologna è il momento più importante quello a livello nazionale e internazionale. Viene dopo una serie di eventi che abbiamo sviluppato in tutta Italia qui oggi avremo oltre mille incontri tra ricercatori e imprese, tra venture capitalist e start-up nuove imprese che cercano capitali, nuove tecnologie che vengono offerte ad imprese esistenti o che cercano partner per svilupparsi. Credo che sia ormai diventato un appuntamento stabile, un appuntamento che non è più solo dell'Emilia Romagna ma è un appuntamento che pone l'Emilia Romagna come un luogo attrattivo per chi vuol fare veramente innovazione.